Entra in quel filone che noi spesso abbiamo seguito a Quarta Repubblica, c'è i cosiddetti affidi, cioè i bambini che vengono per un motivo o per l'altro tolti da loro famiglie naturali e affidati a degli altri genitori che non sono giuntori naturali. Che cosa succede? Sia quando questi bambini vengono tolti da loro famiglie, se è giusto che li tolgano, abbiamo parlato appunto per scandali del passato, e soprattutto questo sistema degli affidi come funziona. Tutto potevamo pensare dopo il vereno, dopo il vereno, dopo il vereno, dopo il vereno,